è pericoloso tu e marco la marta che scompisce alle risate a questa se ne comoda hai capito che grossetto aiuto 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 stupendo bravi Pasquale è morto sei 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 hai che hai tu hai sei ok Ascalo No Mamma mia Togliatevi Sì 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 Vai Sì 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 Guardi i sono stati più bravi di voi Hai vinciato con un guadagnatore Hai vinciato a te ma cosi devo vado? vai Peppo vai! no io lo faccio a vedere così io lo faccio a vedere guardalo è rimasto lì